Partono i lavori di rigenerazione urbana del quartiere di Borgo Meduna, un progetto di riqualificazione strutturale, funzionale e ambientale che interesserà in particolare la piazza centrale del quartiere e vedrà la realizzazione di una nuova ciclabile in via Udine. L'obiettivo dell'amministrazione comunale che avevamo anche rappresentato ai cittadini è quello di intervenire progressivamente in tutti i quadranti critici della città per rigenerarla, per sistemarla. La porta di Pordenone è Borgo Meduna, da moltissimi anni si parla di una riqualificazione, della realizzazione di una piazza, della sistemazione di via Udine per renderla sicura anche i pedoni e i ciclisti. Oggi abbiamo progetto e finanziamento che metteremo presto a terra per dare una risposta concreta ai necessità di Borgo Meduna, fermo restando che anche gli altri quartieri, per non parlare poi degli impianti sportivi piuttosto che di tutte le strutture di proprietà pubblica, saranno oggetto di una progressiva riqualificazione. Conservati e riscoperti i siti di interesse naturalistico, ambientale, storico e di archeologia industriale, come anche la parte storica dell'antico Borgo, oggetto di riqualificazione con un percorso ciclopedonale e di mobilità cittadina che lo ricollegherà al centro urbano. Il progetto di riqualificazione del quartiere di Borgo Meduna parte dalla realizzazione di una piazza, un elemento mancante all'interno di questo quartiere così vicino al centro ma in realtà così lontano. La chiamiamo cerniera di mobilità, quindi oltre a essere un intervento di rigenerazione urbana che crea degli spazi aggregativi all'interno di una comunità dove tra l'altro esiste il polo universitario, quindi che ha una funzione importante per la città, andiamo a creare una prima porta di ingresso attrezzata per fare in modo che la mobilità sostenibile sia sempre più all'ordine del giorno all'interno di questa città. Cos'è una cerniera di mobilità? È un'area attrezzata dove ci sono spazi pedonali, spazi ciclabili, connessioni con viabilità sia principali ma anche secondarie e perché no paesaggistiche attraverso percorsi naturalistici dove si trovano tutti i servizi per il bike sharing, per la mobilità, anche con l'interconnessione con il sistema del trasporto pubblico locale. Quindi un luogo dove poter lasciare l'automobile, dove poter fare quattro passi a piedi, dove poter visitare il quartiere, i negozi che si affacciano su via Udine o dove poter entrare anche in centro città senza bisogno dell'automobile. Il progetto non è calato dall'alto, inserito solo nel contesto limitato di Borgo Meduna, ma tiene conto di tutte le connessioni circostanti con il verde. Nella progettazione, il poter dare degli inserimenti e delle indicazioni ai proteggettisti quali i Rain Gardens, i cosiddetti giardini della pioggia che in realtà sono delle semplici aiuole, leggermente più basse del piano della strada, che possono raccogliere le acque nei momenti di emergenza. La cosa più importante appunto è la collaborazione tra tutti noi, ognuno per il suo aspetto, per portare alla città qualcosa di nuovo, di riqualificato e anche creare quell'ecosistema urbano che è molto più complesso di quello che si crede e che deve avere il giusto riconoscimento.